Musica Buon dia a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che ho deciso di chiamare Harmony. Per quanto riguarda il filato ho utilizzato due filati della Mistrico che già conoscete, ossia l'alice e l'angorina. L'alice l'ho lavorato tantissimo, continuerò sempre a lavorarlo perché è un filato che adoro e l'angorina è un filato dell'anno scorso molto peloso con cui abbiamo fatto diverse creazioni. Quest'anno ho deciso di unirli insieme e creare appunto questo pull che vi posso assicurare non solo è morbidissimo ma anche leggero, addosso non pesa ed è caldissimo. Io in sotto indosso un giro manica ma vi posso assicurare che non sento assolutamente freddo. È veramente un filato, unire questi due filati è stata un'idea fantastica, almeno per quanto riguarda sia la morbidezza che appunto il calore. E come vi ho detto è comunque leggero addosso anche se io ho utilizzato un totale di 500 grammi di cui 350 con l'angorina e 150 con l'alice. Vi ricordo che entrambi sono gomitori da 50 grammi e ho lavorato sempre solo con l'uncidente numero 5. Questi due filati li trovate disponibili sul mio sito filati Elsa di cui vi lascio il link in descrizione e voglio farvi vedere altri abbinamenti colori che potreste fare che io trovo veramente fantastici. Potremmo unire questi due blu oppure anche lilla, vedete? Fantastici insieme. Ma potreste unire anche nero con nero o grigio con grigio oppure potreste unire l'angorina nero con l'alice grigio o potreste fare altri tipi di abbinazione. Comunque io in descrizione vi metto il link sia l'angorina sia l'alice in modo tale che potete scegliere i colori da abbinare. Per quanto riguarda una M vi consiglio di andare a prendere 450 grammi dell'angorina e 200 grammi dell'alice. Per quanto riguarda invece una taglia L in questo caso vi consiglio 550 grammi dell'angorina e dell'alice 250 grammi. La lavorazione è semplicissima perché si tratta di lavorare alla fine due pezzi che poi vanno uniti tra di loro. Io infatti ho fatto due rettangoli la cui lunghezza mi parte dal davanti qui della vita a dietro della vita. E sono andata a fare quindi prima un rettangolo a cui poi ho lavorato la manica e ho cucito solamente qua sotto perché la manica sono andata a lavorarla in giri di tutto tondo. Poi ho rifatto la stessa cosa quindi un altro rettangolo con lo stesso numero di catenelle, lo stesso numero di giri e sono andata poi a cucire sotto e a realizzare la manica con lo stesso numero. Alla fine poi sono andata a cucire questo pull dietro e anche avanti per ottenere questo fantastico pull. Non l'ho voluto molto lungo perché voglio indossarlo anche sopra dei vestiti che ho a qui quelli col collo alto a giro manica ma sono dei vestiti e quindi è perfetto per essere indossato anche sopra quel tipo di vestiti. Però voi potete farlo anche più lungo quindi trasformarlo in un vero e proprio maglioncino e in questo caso non dovete fare altro che andare a mettere più catenelle rispetto a me nella parte iniziale quindi nella lavorazione di rettangolo. E in quel caso mi raccomando andate ad aumentare di 50 grammi l'angorina. Non tanto l'alice ma l'angorina sicuramente la dovete andare ad aumentare di almeno 50 se non anche 100 grammi. Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, vi avvicino per farvela rivedere perché veramente la trovo fantastica, è morbidissima. Quindi spero che vogliate realizzarla così poi mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito trovate sempre disponibile e acquistabile il pdf per poterlo realizzare in tutte le taglie con tutte le istruzioni che vi do. Un bacio a tutti e ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro pool io ho deciso di utilizzare due filati lavorandoli contemporaneamente che sono l'angorina e l'alice. Entrambi i filati sono della Mistrico Filati e io ho unito insieme il colore 5 al colore numero 7, quindi 5 dell'angorina e 7 dell'alice. Voglio far vedere altri possibili appinamenti colori che potete fare come questo che ha come colore il blu o altrimenti potete optare per il viola, il viola se vi piace, vedete? Mettendo quindi insieme questi colori, ma potete abbinarli anche diversi perché tipo sul sito troverete anche colore come il nero, come il grigio o anche colori da abbinare come un blu, come questo, però ad un ottamio se volete che si veda di più il contrasto tra i due filati. Io invece ho deciso di lavorare tono sul tono, però per iniziare a farvi vedere come andare a realizzare questo pool utilizzerò un altro filato perché voglio che almeno l'inizio della lavorazione si veda bene. Anche se vi vi dico so, subito che comunque la lavorazione è molto semplice, sono soltanto ventaglie che vanno ripetuti, proprio perché ho voluto dare risalto ai filati piuttosto che alla lavorazione vera e propria. Allora, inizieremo realizzando due rettangoli. Ogni rettangolo dovrà essere lungo che parte dalla più alti della vostra vita ad arrivare addietro sempre della vostra vita. Nel mio caso sono circa 88 cm e io per ottenere questa misurazione andando a montare le mie catenelle ho montato un totale di 160 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si realizza su un multiplo di 3, a cui poi vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Io montando 160 catenelle vi dico già che avrò un totale di 40 ventaglietti, mentre nel campione ne avrò di meno. Però, ripeto, io lavorerò con l'uncinetto del numero 5, lavorando insieme ai due filati ho montato 160 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. E quindi misurate dalla vita sul davanti alla vita dietro quanti centimetri vi occorrono. Vi dico subito che, naturalmente, se siete una taglia S ma avete più seno rispetto a me, sicuramente dovrete andare a mettere almeno, io direi, 4 motivi in più, in modo tale che quindi la lavorazione non penda troppo sul davanti, ossia non si alzi troppo. Le taglie più grandi, quindi considerate, io vi dico che per una taglia M dovresti mettere almeno, diciamo, 8 motivi in più, però calcolate attentamente la vostra lunghezza, in modo tale da capire bene quanti catenelle andare a montare. Quindi si crea questo primo rettangolo e poi si va a lavorare in altezza. Io ho lavorato per un totale di 13 giri, che mi hanno permesso di avere un'altezza di 18 cm, che sarebbe metà della mia maglia. E va più che bene, perché una volta fatto questo rettangolo, poi andremo a lavorare la manica, e finita questa parte andremo a farne un'altra speculare, quindi identica, montando sempre lo stesso numero di catenelle, facendo sempre lo stesso giri, andando a mettere il marcatore nei stessi punti e facendo quindi la nostra manica. Quindi, adesso vi faccio vedere appunto come andare a realizzare il nostro motivo. Semplicissimo, andiamo a fare, montate le nostre catenelle, andiamo a realizzare due catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, salto due catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Salto due catenelle e si ricomincia da capo, andando a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Un'altra cosa che vi voglio dire, per aiutarvi, e questo non sono diventati di vero prima, per aiutarvi a vedere bene il filato, quando andate a montare le catenelle, montatele con l'uncinetto del 5 e mezzo, in modo tale che avrete le catenelle più larghe, vi sarà più facile andare a trovare le due catenelle da saltare. Quindi, andiamo, saltiamo due catenelle e di nuovo andiamo a fare maglia alta, catenella, si rientra un'altra maglia alta. Si deve fare questo, quindi, per tutto il nostro primo giro. Quindi, ho terminato la mia lavorazione, devo terminare il giro, salto la penultima catenella, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Si gira con la lavorazione e si va a fare di nuovo lo stesso giro, solo che adesso abbiamo una base diversa. Quindi, andiamo a fare 3 catenelle, che sono a nostra prima maglia alta, entriamo nell'archetto di una catenella del ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo un'altra maglia alta, ventaglio successivo di nuovo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Quindi, come potete vedere, la lavorazione è veramente semplicissima. Ma andiamo a fare, quindi, questi giri, io vi ripeto che l'ho fatto per 13 volte, e poi vi faccio vedere come andare a continuare a fare la nostra lavorazione. Allora, io ho lavorato il mio giro per 13 volte, quindi dal mio rettangolo è alto 13 giri. Mi raccomando, per una taglia M andate a fare almeno 3 giri in più, quindi arrivata a 16 giri, mentre per una taglia L arrivata anche a 19-20 giri. Una volta fatto ciò, andiamo a mettere i marcatori per poter lavorare la nostra manica. Come vedete, io ho questi due marcatori. Dall'esterno verso l'interno ho lasciato liberi ben 13 dei miei ventagli. Stessa cosa da quest'altra parte, dal passo verso l'alto ho lasciato liberi i miei 13 ventagli. Quindi io la mia manica la lavorerò su 14 ventagli, perché vi ricordo che ho un totale di 40 ventagli. Quindi da qui, dal primo marcatore al secondo marcatore, io ho un totale di 14 ventagli. E andrò a lavorare in tondo in modo da evitare una cucitura, quindi tolgo un marcatore. Mi raccomando, per le taglie più grandi andate a mettere almeno 4 motivi in più per una taglia M e 6 motivi in più per una taglia L. Quindi invece di metterne 14 per una taglia M, io direi di andare a mettere meno 16 se non 18 ventagli, per una taglia L invece per la manica, andate a mettere 18 se non anche 20 ventagli. Quindi io ho messo i marcatori giusto per contare bene, però adesso ne tolgo uno e aggancio l'altro sia avanti che dietro, perché lavorerò in tondo in modo tale da evitare una cucitura. Quindi riprendo i miei due filati, ricordatevi che li lavorerò insieme, sempre con l'uncinetto del numero 5 e mi aggancio proprio dove ho il marcatore. e vado a lavorare in questa maniera, nel ventaglio avanti, quindi nel foro di una catenella del ventaglio avanti, prendo i miei fili e vado a fare le miei 3 catenelle, quindi una, due e tre. catenella di separazione, questa volta prendo il filo, entro avanti, esco nel ventaglio dietro, tolgo il marcatore, e vado a fare una maglia alta. Così, scusatemi, sono riuscita a fare il mio ventaglio, e adesso vado a lavorare normalmente un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi vado nel ventaglio successivo e vado sempre a lavorare la mia maglia alta, catenella, rientro maglia alta, ventaglio successivo, di nuovo maglia alta, ventaglio, rientro un'altra maglia alta. Lavorerò in tondo e naturalmente alla fine vi farò sapere quanti giri sono andate a ripetere. Ora continuo a lavorare intorno, in tondo sui miei 14 ventagli, vi farò vedere come chiudere il giro e iniziare di nuovo poi sempre il solito giro. Quindi non cambia niente della lavorazione, solo che invece di lavorare in giri di andate e ritorno dove facevamo la maglia alta finale ed iniziale, adesso lavoreremo sempre solo con i nostri ventagli. Quindi sto per terminare il mio giro, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Vado all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio, faccio una maglia bassissima ed inizio a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta di una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e di nuovo poi andiamo a lavorare i nostri ventagli, uno in ogni ventaglio del giro precedente. Benissimo, quindi adesso continuo così e alla fine vi faccio sapere quante volte sono andata a ripetere questo giro. Ho terminato di realizzare la manica, ho fatto un totale di 31 giri, quindi dallo scalfo, da quando abbiamo iniziato a lavorare in tondo fino alla fine, ho fatto 31 giri. Una volta fatto ciò sono andata a cucire il mio rettangolo sotto fino ad arrivare appunto dove ho iniziato la manica, quindi da sotto a sopra. Adesso andrò a fare un altro rettangolo, quindi rimenterò i miei ventagli, un totale di 40 più le due maglie alte, una alla fine, una all'inizio, andrò a fare i miei 13 giri, di nuovo metterò i marcatori e farò 31 giri per la manica, quindi farò un rettangolo uguale che poi metteremo da quest'altro lato. Ed ecco qui anche il secondo rettangolo, stessa cosa, ho fatto sempre lo stesso numero di catenelle, stessi giri, 13 per il rettangolo, 31 per la manica e poi sono andata a cucire sotto qui, sempre con i due fili, dal basso verso l'alto per punto chiudere il mio golfino sotto. Adesso devo andare a cucire la parte dietro, quindi unirò da qui a qui e la parte avanti da qui a qui. Volevo farlo aperto, però penso di più che lo farò chiuso, deciderò diciamo comunque alla fine. Adesso andrò a cucire qui dietro, non so ancora per quanti centimetri, ma mi farò sapere. Per cucire andremo sempre a lavorare con i due filati, entreremo sempre da una parte all'altra, quindi solida cucitura, molto semplice, molto facile. Allora, alla fine ho cucito sia avanti che dietro, ho cucito per circa 25 cm avanti e 33 cm dietro, quindi dietro ho cucito di più in modo che davanti resti più aperto. Allora, non farò alcun tipo di bordino, pensavo di fare un giro di maglie basse sotto, ma in realtà mi piace che vada a largo, quindi il nostro golfino è terminato.